Ciao a tutti, bentornati sul canale Amoglitaliani.Aurora Ramazzotti stupisce tutti sul web confessando la sua nuova ossessione Ecco cosa ha rivelato ai suoi tantissimi fan.Quello di Aurora Ramazzotti è senza ombra di dubbio uno dei nomi più chiacchierati del momento La giovane figlia di Michelle Unzichere di Eros Ramazzotti è ormai diventata una star a tutti gli effetti, complice non soltanto la notorietà dei genitori ma anche le diverse esperienze che la ragazza ha collezionato nel corso degli anni Nonostante la giovane età, Aurora Ramazzotti vanta già all'attivo una carriera importante Nel corso degli anni la ragazza si è affermata come una vera e propria star sul piccolo schermo, cimentandosi nella conduzione di X Factor per ben tre anni e affiancando anche la celebre mamma Michelle in Michelle Impossible and Friends Oggi tutti conoscono Aurora Ramazzotti non soltanto per i suoi successi sul piccolo schermo ma anche per la popolarità di cui gode come personaggio pubblico Con il tempo, infatti, la giovane artista si è fatta conoscere non soltanto per i suoi successi professionali ma anche per i gossip sul suo conto Di recente la Ramazzotti è diventata mamma per la prima volta del piccolo Cesare, il figlio avuto dallo storico compagno Goffredo Cerza Molto attiva sui social, è qui che la bella Aurora ha stupito tutti con le sue parole Ma che cosa ha detto? Aurora Ramazzotti, che succede sui suoi social? La Ramazzotti è una vera star del web Qui la giovane non manca mai di interagire con i tantissimi fan che la seguono, condividendo con loro non solo foto ma anche video che la vedono protagonista Proprio sui social, tra le varie immagini, ne è apparsa una che ha catturato l'attenzione di tutti per un motivo ben preciso La foto in questione si trova su Instagram e, per la precisione, tra le storie che la giovane artista condivide con i follower Qui la Ramazzotti ha annunciato di aver da poco scaricato Trez, il nuovo social che sta spopolando in tutta la penisola Penso sia la prima volta meno ha scritto la bella Aurora su Instagram meno che ho usato più tempo un'app di Instagram e TikTok Il nuovo social ha incuriosito parecchio Lara Ramazzotti, che ha subito deciso di aprire un suo profilo e di provare a condividere qualcosa La piattaforma ricorda molto Twitter, oggi diventato X, con qualche elemento di WhatsApp, come la possibilità di inserire note vocali Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me Arrivederci, al prossimo video